Con la prima riunione della giuria del concorso di poesie Viva la Mamma, dove sono stati consegnati gli elaborati arrivati da parecchie parti d'Italia, si mette ufficialmente in moto la macchina organizzativa, che vedrà il suo apice con la serata di consegna dei premi il 9 agosto a Villa Anna, stupenda location della manifestazione. La giuria, composta dalla presidente Grazia Dormiente, il critico d'arte giornalista Maria Teresa Prestigiacomo, la signora Anna, la general manager di Villa Anna, il giornalista Paolo Otto e il giornalista Salvo Falcone, e coordinata dal patron Giorgio Fratantonio. Avrà anche il compito ora di scegliere il vincitore della tredicesima edizione. Abbiamo intervistato a tal proposito Grazia Dormiente, presidente della giuria. È la riunione della giuria durante la quale vengono distribuite le poesie che hanno aderito al nostro concorso. Un concorso che è cresciuto nel tempo, lo abbiamo detto anche altre volte, ma è un concorso che nonostante la retorica materna, ma forse oggi bisognerebbe rivederla questa, è riuscito a raggiungere una sua longevità e anche una sua particolare attenzione da parte sia dei partecipanti poeti che provengono, come gli altri anni, da tutta Italia e sia anche dai componenti della giuria. Viviamo in un momento particolarissimo, basta pensare alla richiesta di giustizia della mamma di Regene, ma anche a tutto il resto, al femminicidio che vediamo trionfare purtroppo, e soprattutto in questa società acciaccata, che sembra malata, ritrovare dei valori che non siano i soliti valori dello stereotipo, della rivalutazione, della tutela e tutto il resto, ma che siano quelle, diciamo, iscritte nel nostro esserci, è importante. E il nostro concorso, io credo, può in questo ambito essere non solo di attualità, ma anche di monito e anche di appello.